Francesco Venè, partita durissima Caldo, stanchissimo, 200 tiri, poi il Camaiore ci ha fatto soffrire fino all'ultimi secondi ma siamo contenti, anche perché un pareggio qua per noi è importantissimo il percorso che stiamo facendo è ancora più importante perché abbiamo fatto una vittoria con Matera una prestazione importante a Giovinazzo, adesso un pareggio qua è importante stiamo crescendo, siamo tutti contenti, siamo una squadra giovane, siamo contenti e vogliamo continuare così che è sempre più importante andare avanti e crescere sempre di più Ecco, mi hai anticipato dicendo proprio che siete una squadra giovane poi un grande allenatore, Paolo De Rinaldis, come si comporta questa squadra? La squadra, come hai detto te, come l'ho detto anch'io, una squadra così giovane che ha tanti margini di miglioramento, ha la fortuna che hanno pochissime squadre di avere un allenatore del genere, non possiamo che essere più che contenti perché stiamo facendo un gran campionato e possiamo imparare tantissimo dal nostro allenatore Mi fa piacere vederti così, entusiasta, ma anche serena, non è che è veramente della partita Poi per me qua lo sanno tutti quelli che sono a casa Mi voglio bene dal primo all'ultimo, è sempre un piacere giocare qua anche perché quando si gioca bene in un posto in cui ci si vuole bene è 3000 volte più bello